C'è una va dal dottore, no? Si dice dottore io ho questo problema e ho dei dolori un po' qui, cioè verso la pancia, no? Si chiede dottore e fa guardi e si spogli e si mette sul lettino. Dice no, ma io mi vergogno, mi sono spogliata davanti a un uomo, ma si deve spogliare, ma io mi vergogno. Facciamo una cosa allora, spengo la luce, va bene? Così non la vedo e intanto lei si spoglia. Il dottore spenge la luce e la signora fa dove li metto vestiti? Sulla sedia accanto a dove l'ho messa io.